Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con lo speciale TG Noi del venerdì sera. Riprendiamo le nostre trasmissioni normali, tra virgolette, dopo il periodo elettorale, ma rimaniamo comunque sull'argomento delle elezioni. Questa è la settimana in cui sono stati decisi tanti nuovi sindaci in provincia di Lucca e nei nostri studi abbiamo quattro nuovi primi cittadini eletti da pochi giorni per conoscerli o conoscerli meglio insieme a voi. Ve li presento accanto a me Andrea Bonfanti che è il nuovo primo cittadino di Pescaglia. Buonasera, buonasera. Poi Nicola Poli, nuovo sindaco di Minucciano, buonasera. David Saisi, nuovo sindaco di Gallicano, buonasera. Buonasera. E Andrea Tagliasacchi, nuovo sindaco di Castelnuovo, Garfagnano. Buonasera Tagliasacchi. Allora, prima di tutto una vera e propria presentazione, perché Tagliasacchi probabilmente è l'unica persona che tante persone in provincia di Lucca conoscono già bene. Gli altri tre primi cittadini, forse a parte i loro comuni, nel resto della provincia non sono molto conosciuti. Quindi andiamo a fare la loro conoscenza. Andrea Bonfanti, intanto quanti anni ha? 35 anni, nato a Lucca, trasferito nel mio comune nel 2008. Comune di Pescaglia. Sì esatto, nel 2008. Sono psicologo del lavoro, lavoro in una società partecipata del comune di Lucca, in Gesa, mi occupo di risorse umane, formazione e sviluppo principalmente. Sono sposato dal 2010 e babbo di un bimbo di due anni. Ecco, ci hai detto praticamente già tutto. L'unica cosa è la sua prima esperienza politica o aveva già fatto qualche esperienza? Come amministratore è la mia prima esperienza. Io vengo da una lunga militanza politica all'inizio in un'associazione che si chiamava Sinistra Giovanile, interrotta poi ai primi anni 2000 e ripresa adesso con queste amministrative. Ecco, quindi avete capito, Bonfatti fa parte dell'area del centro-sinistra, è stato appoggiato? Sì, la mia è stata una lista civica, tant'è che forse il risultato che abbiamo conseguito l'abbiamo fatto perché siamo stati in grado di unire più mondi all'interno del nostro comune, però ovviamente sì, avevamo anche l'appoggio di tutti i partiti del centro-sinistra. Bene, passiamo a Nicola Poli di Minucciano, ci faccia un po' la sua carta d'identità. La carta d'identità, allora ho 37 anni, ho una compagna e un bimbo di 3 anni. Siamo in attesa del secondo genito, non sappiamo ancora se è maschio o femmina, lo sapremo a breve. Sono avvocato, lavoro qua a Lucca, la mia per andare nel solco di quello che diceva prima il collega, è invece una militanza che amministrativamente parlando dura da qualche anno in più perché sono stato assessore nella giunta da Vini per le due legislature precedenti. Davini era il precedente? Davini Domenico, sì, il sindaco precedente e quindi la mia è, diciamo così, è una storia che nasce un pochettino più da lontano sotto questo profilo. Bene, possiamo parlare di appartenenza centro-sinistra, centro-destra o...? No, sicuramente, allora la lista è una lista civica, però è una lista che è stata appoggiata dai partiti classici del centro-sinistra, quindi PD e Rifondazione. La lista è una lista comunque civica. Ovviamente civica. Ricordo ai telespettatori che possono inviare messaggi, commenti o domande al numero di telefono 348 655 97 92. Passiamo adesso a Davide Saisi di Gallicano, un sindaco tra virgolette particolare perché è l'unico in provincia di Lucca che con la sua lista ha sconfitto sia un candidato di centro-sinistra che un candidato di centro-destra. È il nuovo sindaco di Gallicano, ci faccia un po' la sua carta d'identità. Sì, io ho 42 anni, sono sposato con Anna, babbo di Virginia, 4 anni, sono imprenditore turistico dal 2005 fino al 2005 ho lavorato in una compagnia delle comunicazioni come selezionatore del personale, poi nel 2005 ho deciso di cambiare la mia vita e di dedicarmi alla mia terra, quindi alla Garfagnana, credendo molto nello sviluppo turistico della nostra zona. Quindi oggi sono imprenditore nel settore turistico. È vero, faccio parte di una lista che a differenza dei colleghi è una lista apartitica. Completamente scollegata dai partiti. Esattamente, vogliono per forza darci una categorizzazione ma noi siamo una lista apartitica quindi non siamo appoggiati né da partiti di centro-destra né da partiti di centro-sinistra né da movimenti. Quindi escludiamo anche Grillo? Escludiamo tutto. Escludiamo tutto. Ovviamente all'interno della nostra lista, della nostra compagina amministrativa ci sono persone che hanno votato centro-sinistra, centro-destra, Movimento 5 Stelle. Non ce lo siamo dichiarato, non ci interessa, siamo gallicanesi che vogliono fare il bene di Gallicano. Ecco, la lista si chiama Gallicano C'è e lei è già stato candidato a sindaco? Sono già stato candidato nel 2009 come candidato sindaco e la mia esperienza politica parte proprio nel 2009. Prima del 2009 non avevo alcuna esperienza in ambito politico e amministrativo. Bene, allora passiamo a Andrea Tagliasacchi che stasera fa la parte del decano dei sindaci anche se in realtà è la prima volta da sindaco anche per lei. Ci rifaccia la sua carta d'identità? Allora ho 55 anni, mi chiamo Andrea Tagliasacchi, sono sposato con Anna Paola, ho un bimbo che a luglio fa 8 anni che tra l'altro saluto. Che la sta seguendo in questo momento. Penso di sì. Dopo aver fatto il presidente della provincia ho scelto un periodo per una serie di cause, di motivi e anche di valutazioni mie personali, di avere un periodo di stacco sostanzialmente della politica che mi ha fatto molto bene perché ho rivisto le cose in un'altra ottica. in questo periodo ho costituito una mia società, quindi faccio il libero professionista, faccio consulente di sviluppo commerciale ad alcune imprese ed aziende e questo lavoro in questi anni si è consolidato, sono molto soddisfatto di questo, mi si è presentata un'opportunità per me importante, quella di ricominciare dove ho cominciato ed è stata un'esperienza molto bella, molto suggestiva anche dal punto di vista umano, ringrazio tutti quelli che mi hanno stimolato a farla, ci siamo presentati con una lista che aveva il mio nome, una lista anche questa di impegno civile, vera, nel senso che l'ho formata attraverso incontri, con associazioni, con situazioni, con realtà, con persone. Lei ha tenuto particolarmente a sottolineare che la sua era una lista civica vera, sia pure che godeva dell'appoggio di alcuni partiti. Sì, perché normalmente nei piccoli comuni si dice, normalmente si fa una lista civica e io ho teso a dimostrare con un rinnovamento radicale e con il curriculum di queste persone che si sono presentate in tutti i quartieri, in tutte le frazioni di Castelnuovo, che si era costruita una lista diversa dal solito, con professionalità importanti, con sensibilità umane diverse e anche provenienze culturali diverse, quindi una lista che ha teso a, in interpretare quello che mi sento io oggi, cioè più che un uomo di parte, un uomo delle istituzioni e poi perché ritengo che oggi Castelnuovo abbia bisogno di tutte le energie migliori di Castelnuovo per riportare il comune al centro dello sviluppo della valle. Ecco, Taglia Sacchi in parte ha già risposto alla prossima domanda che volevo fare ai nostri nuovi sindaci, ovvero chi gliel'ha fatto fare di intraprendere questa avventura? avete una famiglia, dei figli, un lavoro, il mestiere di sindaco non è più quello di qualche anno fa dove magari qualche onore c'era, ora ci sono soprattutto tanti oneri, non penso che abbiate grandi soddisfazioni economiche a fare i sindaci, vorrei sapere anche qual è l'indennità che ricevete e se ovviamente la sapete già. Partiamo da Andrea Bonfanti, chi gliel'ha fatto fare a lei? Come ti dicevo, io appunto mi sono trasferito in questo comune, nel comune di Pescaglia, nel mio comune, nel 2008-2009 all'incirca quando ho acquistato e ristrutturato una casa insieme a mia moglie Claudia e lì poi abbiamo deciso di far crescere il nostro bimbo, come dicevo prima, da due anni Leonardo, a settembre entrare nella scuola come cittadino attivo del comune di Pescaglia e questa è stata la molla principale. La domanda che mi sono fatto è stata se questo era il comune, il miglior comune in cui io avrei voluto far crescere il mio bimbo, perché appunto io lì avevo investito non solo economicamente ma anche da un punto di vista degli affetti e girando questo grande comune, perché a livello territoriale è abbastanza esteso, ho visto che c'erano tantissime potenzialità da poter sfruttare per migliorare la vita di tutti i cittadini e quindi anche di tutti i Leonardo, che cresceranno negli anni. Questa è stata la molla, ho iniziato a girare il territorio da gennaio per capire se in giro c'erano altre persone che la pensavano come me. Ha cominciato la campagna elettorale a gennaio e ha perso quanti chili, diciamolo? Sette. Sette chili in campagna elettorale, so che anche gli altri candidati hanno perso chili, tagliasacchi forse no. A qualcosa ha perso anche lei. Sì, io ovviamente rispetto magari agli altri, ho dovuto anche farmi conoscere, perché non essendo nato comunque nel comune di Pescaglia, ho avuto anche l'onere di dover innanzitutto farmi conoscere a tutti i miei concittadini e quindi il primo giro delle frazioni è stato proprio quello per presentare me stesso. Successivamente poi il programma, la squadra e raccogliere comunque tutte le domande, tutte le aspettative, tutte le speranze che comunque si sono create intorno a questa campagna elettorale. Quanto prende da sindaco? Non lo so, perché ancora non è stata certamente la prima domanda che ho fatto appena entrato, no, non lo so, non lo so ancora. Io lo chiederemo più avanti. Poli, chi gliel'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Credo che la risposta possa cadere in sospetto di ridondanza, ma credimi non lo è. Io mi sono accostato a questa esperienza amministrativa, perché sottolineo per me non è una questione politica, è una questione veramente amministrativa, dieci anni fa perché crescendo in un piccolo comune come quello di Minuciano vedevo un declino complessivo, anche proprio sociale, rispetto al quale quando arrivi a quell'età, 20, 22 anni, 25, se sei consapevole della situazione magari senti anche lo stimolo, il dovere di fare qualcosa. Quindi è nata da lì la passione e poi chiaramente l'impegno, il sacrificio, la dedizione e adesso poi il passato, lo scalino ulteriore, quello di prendere il testimone da Domenico Davini, è venuto sempre nel solco di questa linea, ma anche con la passione che ti dà il poi vedere che quando con sacrificio, con dedizione, come dicevo prima, ma fai qualche cosa e metti un mattone e vedi che si crea un sistema che funziona, è comunque gratificante, è una soddisfazione che ripaga di tutto il resto, quindi è un po' l'insieme di tutto questo, la molla che ti fa andare avanti in un'avventura di questo genere, perché come hai detto te, in questo periodo, soprattutto più che in altri periodi, in questo periodo la domanda chi te l'ha fatto fare è assolutamente legittimo. Lei lo sa quanto prende da sindaco? Onestamente credo che sia 1200 euro l'orde, però non vorrei dire, sicuramente non è di più, però mi sembra di ricordare che fosse quella che aveva Domenico, ovviamente noi non aumenteremo. Se non l'hanno tagliata nel frattempo. Può darsi, allora prendiamo quello che viene, non è quello certamente lo stimolo. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, torniamo tra pochi istanti.